Rudy Zerbi e il figlio Leo Lo scopriamo giorno dopo giorno vedendo le storie Instagram pubblicate proprio da Rudy che ogni volta che parla di suo figlio Leo riesce a trasmettere chiaramente le sue emozioni e non si risparmia nulla E a noi questo atteggiamento non può che piacere. Veniamo subito al dunque.Rudy Zerbi innamorato di suo figlio Leo, sta crescendo Rudy ama rispondere alle domande dei fan e infatti non perdi occasione per raccontare loro aneddoti legati alla sua vita e storie sulla sua famiglia In un post pubblicato recentemente proprio in una sessione di domande e risposte è tornato a parlare proprio del suo piccolo Leo rispondendo alla domanda cosa ti mancherà di più del tuo 2018? Certi momenti con il piccolo Leo, questa la sua risposta a cui ha fatto seguito un cuoricino, che sta crescendo, ma so che i migliori sono quelli che devono ancora arrivare Dopo il bellissimo gesto che ha fatto per lui di recente Rudy continua insomma a condividere coi fan tutte le sue emozioni Rudy Zerbi Un amici ha trovato il suo pane quotidiano Anche con Zerbi che dimostra ogni giorno sempre di più di essere un papà adorabile Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like